Gentili telespettatori, buon pomeriggio e benvenuti al Canada di Cervinara per assistere all'incontro di promozione Girone C, diciannovesima giornata tra la capolista Paolisi e il Cervinara, seconda forza del campionato. Il fischio d'inizio, partiti in questo preciso istante. Anche di serie C, un pubblico così non ne ho mai visto. Il Cervinara con Della Marca, Della Marca, gol! Basta il Cervinara il vantaggio con Della Marca, vantaggio del Cervinara al quarto minuto, Della Marca lanciato, sblocca il risultato, Cervinara 1, Paolisi 0, si sblocca da subito il risultato. L'onore del vero sembra essere difficile però nel calcio c'è tutto, ricordiamo che nel girone di andata, però alla fine finisce per conquistare una palla importante. Lancio per Demizio, Demizio a tu per tu con... Demizio a tu per tu con Betroni. Un contrasto psicologico da parte dei giocatori mister Facchino che fino a questo momento non sono riusciti a impensare i giocatori del Cervinara. Nel frattempo c'è un tiro improvviso di Russo, è l'albitro che guarda il cronometro, stacca il Cervinara, vetrone esce e evita il calciotan di cross al centro del Cervinara. Gol! Basta la doppia del Cervinara con Demizio. De Cervinara di testa sotto misura, Demizio raccoglie un cross di Sanna Conte e mette nel sacco per il 2-0. Raddoppia il Cervinara al quinto della ripresa, 2-0. Capo solo lì davanti perché l'offredo e il russo gli girano intorno ma avere palle gol non ne ha avuto. E fatemmo ancora Demizio che sbaglia un altro facile gol. È diverso dalle caratteristiche tecniche di Romano che è un giocatore che ha una buona tecnica, quindi diciamo che il Cervinara ora ha più l'assillo di portare a casa nel frattempo Pignalosa. Quasi un ricordo in movimento, la dice lungo sul modo di segnare. Ecco, è un'altra occasione, ha fatto un gol, ha fatto un gol, ha fatto un gol, ha fatto un gol proprio in diretta. Segna il Cervinara! Sarà bello il tiro, il portiere, bravo, bravo Pignalosa! Può quel gol dare qualche grattacapo al Cervinara? Certamente il gol è nato da una disattenzione difensiva, però ecco, il ragazzo, il portiere Cervinara in questo momento ha fatto un milagro, un vero milagro. Tornando in telecronaca, ancora il Paulisi in attacco con Russo, Russo che vince una serie di rimballi, va al cross, Paulisi che colpisce il palo, colpisce il palo e poi questa volta d'Andrea manca la più facile delle occasioni. Passo a ringraziare certamente un pochino tutti e faccio un grosso applauso alle due tifoserie. Arriva il fischio finale al Canada di Cervinara, il Cervinara batte la capolista Paulisi. Salute la capolista!